Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Ciao. Oggi, come per concludere un po' la serie sul Sensibo, vorremmo entrare un po' di più nello specifico per quanto riguarda l'app di Sensibo. Quindi tutto ciò che sono le funzioni che vi può offrire questa splendida app. Splentita. Splentita, splentente. Mamma mia, iniziamo bene. Splentente. Il motivo è sempre il solito. Esatto. Però, prima di questo, Marco... Ragazzi, iscrivetevi al canale, è importantissimo. Stiamo crescendo insieme a voi, siamo molto contenti di questo. Continuate a iscrivervi e diffondete il verbo. Attivate la campanella. Esatto. Così non perderete i prossimi video che cariceremo. E lasciate un bel mi piace, mi raccomando. E adesso però lanciamo la nostra... Sigla! Passiamo sull'app! Entriamo nella app Sensibo Sky. Questa è la home page. Nella home page trovate il mio dispositivo, più tutta una serie di righe al di sotto. Questo indica il fatto che è possibile aggiungere più dispositivi. Nel mio caso ne ho uno solo. Cominciamo la descrizione appunto da questa riga. Questa riga vi dice la temperatura attuale nella stanza in cui è collocato e l'umidità. Ma partendo dall'alto, a fianco alla scritta Sensibo, partiamo dalla matitina. La matitina sta a indicare che potete cancellare l'applicazione. Quindi toccate il segnetto rosso e vi comparirà la scritta Elimina. Oppure potete, toccando di nuovo la matitina, fare nuovamente una rilevazione della vostra posizione. Perché magari avete spostato il vostro dispositivo. Toccando la matitina grigia uscite da questa modalità. Andiamo avanti. La localizzazione. La funzione localizzazione serve a far sì che il vostro cellulare venga geolocalizzato e ogni qualvolta voi uscite di casa o entrate, si accenderà e spegnerà il climatizzatore con un range di 100 metri. Quindi quando sarete a 100 metri da casa vostra, verrete rilevati e accenderà, oppure se uscite di casa, spegnerà il climatizzatore. In modo tale che non abbiate la possibilità di dimenticarvelo acceso o comunque quando rientrate avete una temperatura confortevole. Come funziona? Basta abilitarlo con il flag in alto a destra. Qui vi dà la spiegazione di che cos'è. Fate continua. Cliccate sul dispositivo e lui vi chiederà, ok, ma io cosa devo fare quando è abilitata questa cosa e tu sei nel raggio dei 100 metri o stai uscendo da casa? Non fare niente, ma non ha senso. Accendi l'area condizionata. Oppure attiva il climate react, che dopo vi spiegheremo cos'è. Oppure attiva l'area condizionata più climate react. Una volta fatto questo, selezionate quello che volete e fate done. Nel nostro caso, torniamo indietro, disabilitiamo la funzione e siamo di nuovo nella home page. È la volta della programmazione, l'orologino. Fatto quello, cliccate sul tasto più e qui abbiamo delle funzioni particolari. Nel senso che potete decidere, spegnilo alle ore, quindi cliccate su off e qui vi dirà, ok, a che ora vuoi che lo spenga? Sono le 7.12. A che ora vuoi che si spenga il climatizzatore? Quindi date un'impostazione. Fatto questo, sotto c'è la possibilità di ripetere questa funzione sui giorni della settimana. Quindi potete anche decidere per quante volte in settimana deve essere ripetuta questa azione. Oppure, tornando indietro, se noi gli diciamo che devi accendere il climatizzatore, quindi clicchiamo sul tasto on, abilichiamo on, si è aggiunta una voce. Devi selezionare che cosa deve fare il climatizzatore. Quindi cal, la prima voce è lo vuoi che vada sul freddo, caldo, solo ventola, auto, deumidificazione. Una volta deciso quello che a voi va bene, cliccate appunto su va bene e vi verrà impostato lì. La seconda voce è la temperatura e la terza è la ventola, quindi se volete varie modalità di ventola. C'è forte, auto, auto, medium high, medio, medium low, basso, silenzioso. Una volta selezionato quello che volete, come prima, va bene. Fatto questo, date sempre l'impostazione dell'orario e se volete può essere ripetuto anche questa funzione durante la settimana. Torniamo indietro, facciamo annulla, indietro. E siamo alla voce un po' più corposa della home page, quella delle impostazioni. Nelle impostazioni troviamo imposta nuovo dispositivo sensivo. Allora, qui giustamente vi chiede che cosa vuoi installare di nuovo nell'applicazione. Quindi c'è il Sensibo Sky, quello che è già in nostro possesso. C'è un Carrier Smart AC, che però sinceramente non ho idea neanche se venga commercializzato in Italia. Oppure c'è acquista un dispositivo aggiuntivo. Cliccando qui vi rimanda direttamente al sito di Sensibo. E potete effettuare lì un acquisto. Oppure c'è il Sensibo Pod. Questo nuovo dispositivo, nuovo per noi perché non lo conoscevamo, vi dà la possibilità di collegare senza l'ausilio del filo di alimentazione, di rendere smart ogni climatizzatore di casa vostra. Allora, viene venduto con l'hub, va connesso l'hub direttamente al router di casa vostra. Un altro dispositivo viene connesso sulla parte anteriore del motore del vostro climatizzatore. Fatto questo, darete i comandi, arriveranno all'hub. L'hub li manda al ricevitore che c'è sul climatizzatore. E questo tramuterà il tutto nel segnale da mandare infrarosso, da mandare dentro il climatizzatore. Quindi diciamo che è un po' più pratico per quanto riguarda la duttilità del prodotto. Potete avere più climatizzatori e non avere tanti fili appesi. Il contro di questo è che va a pile. Abbiamo letto che più o meno la durata è di 2-3 mesi. Utilizza pile un po' particolari, però perlomeno avete un dispositivo totalmente autonomo e senza il filo. Altra voce, notifiche. Qui, io ho già abilitato tutto, sono le solite notifiche. Se ci sono problemi, se ci sono degli aggiornamenti. Tutta una serie di notifiche che poi è tutto un what's gaps, se avete voglia ve lo traducete. E abilitate quello che volete. Altra voce, segnala un problema. Su segnala un problema, vi dà l'apertura di una nuova pagina dove potete scrivere il vostro problema. Verrà inviato e tramutato in email. Attingerà alla vostra app per avere determinati dati da poter inviare a colui che poi dopo vi darà l'assistenza sul prodotto. Cambia lingua. Beh, questo non mi sembra neanche il caso di aprirlo perché è semplicemente il cambio della lingua. Supporto. Qui vi connette direttamente al sito di Sensibo e vi dà tutta una carrellata di procedure che si possono fare per potervi aiutare. Tipo a configurare all'inizio il vostro prodotto. Le domande e le risposte. Come si fa a fare questo. Come si fa ad integrare. Tutta una serie di informazioni che potete attingere da qui. Quindi, nella voce su, non sono nient'altro che la versione dell'applicazione e le varie licenze. Ultima voce, assolutamente che io non toccherò, è la disconnessione del mio dispositivo. Questa era l'ultima parte della home della app. Adesso però entreremo un po' di più nello specifico per quanto riguarda la riga del dispositivo. Quindi, come vi dicevo prima, temperatura, umidità, il simbolino della camera da letto, il nome della stanza dove è collocato camera da letto, il sole sta che ho impostato il climatizzatore sul caldo, in questo momento è spento e poi la possibilità di poterlo accendere con un semplice tocco. Entriamo dentro questa riga e qui siamo in una facciata che dovrebbe essere abbastanza familiare per coloro che hanno visto il video precedente. Qui abbiamo il rosso e il blu, naturalmente, alza e abbassa la temperatura. Sulla destra abbiamo la ventola, con tutte le varie tipologie di ventole che si possono avere, il caldo, il freddo, il deumidificatore, eccetera, eccetera. Il timer, quindi dopo quanto tempo voglio che si spenga il climatizzatore, come abbiamo fatto vedere anche l'altra volta, e poi le alette, l'ultimo tasto. Altra cosa, qui però, entriamo nelle impostazioni del dispositivo, quindi rotellina in alto a destra, e come vedete qui cambia un po' la situazione, nel senso che vi dice, eventi recenti, tutto quello che è stato mandato come comando al sensibo Sky, è quello che lui ha eseguito. Niente di più, niente di meno per ora. Impostare il Climate React. Avete la possibilità di dirgli, allora, intanto vi do una spiegazione generale. Questa impostazione serve a rendere un po' più autonomo e più economico l'utilizzo del vostro climatizzatore, nel senso che una volta attivata, potete scegliere se lui deve partire con un clima ideale in base alla temperatura, all'umidità, oppure a entrambe. E quindi avete tutta questa serie di impostazioni da dargli. Quindi se fate la temperatura, gli dovrete dire, guarda che se la temperatura che viene rilevata arriva a 28 gradi, cerca di mettermi una temperatura ideale, con un'umidità ideale, e quindi gli darete tutta una serie di parametri. Fatto questo, sotto gli date Apply, in modo tale che lui applicherà queste funzioni e ve le riproporerà. Queste impostazioni, naturalmente, rendono il vostro climatizzatore più efficiente e più economico, perché in base a ciò che lui rileva, andrà poi ad impostare tutta una serie di parametri. Altra voce, sincronizza dispositivo. Può capitare che magari il dispositivo abbia perso la sincronia, nel senso che vi risulta che il climatizzatore sia acceso, ma sull'applicazione vedete che sia spento. A questo punto gli date di rifare la sincronia e sistemerà il tutto da solo. Cambia in FireNight, anche qui è un po' come la lingua, non lo abilito perché a noi va bene i gradi Celsius. Cambia telecomando, avete perso il telecomando e vi viene sostituito, oppure avete un'impostazione particolare, quindi volete in qualsiasi caso rifare la combinazione col telecomando, potete abilitare questa funzione e lui vi chiederà nuovamente di rifare la procedura di accoppiamento. Cambia nome e icona, questo è carino perché comunque vi dà la possibilità di selezionare graficamente, dare un'impostazione grafica un po' più personale. Io per esempio ho scelto il letto, questi sono i simboli che vi può far scegliere, ho scelto il letto, dopodiché ho dato il nome Camera da letto, fatto questo cliccate su aggiornare e l'applicazione vi dà questa impostazione quando avete la stringata del vostro dispositivo. La voce sottostante è il promemoria per la pulizia del filtro, da quando viene attivato dopo un lasso di tempo vi dirà attenzione guarda che è meglio che fai una pulizia del filtro. Altra voce molto interessante è condividi questa aria condizionata, praticamente aria condizionata, più che altro condividi questa applicazione, io posso decidere di cliccare qui, mi si aprono tutte le modalità di condivisione e io posso decidere a chi inviare questo messaggio, diciamo che mandiamo un whatsapp, all'altra persona comparirà un link con la scritta ti vuoi connettere alla mia aria condizionata? Una volta che la persona cliccherà sul link verrà riportata sul login di Sensibo del dispositivo, voi gli darete il login, tutti i dati che servono per fare il login e quella persona potrà condividere con voi le informazioni e i comandi del vostro climatizzatore. Ultima voce, rimuovi dall'app, semplicemente togliete questo dispositivo dall'applicazione e anche con questo abbiamo finito. Ma c'è un altro tasto importante, il tasto più qui in basso a destra. Allora, come potete vedere il primo in alto vi dice in poche parole se vuoi comandare questa applicazione con Siri, vi dà la possibilità di abilitarlo con Siri, quindi una volta cliccato vi dirà qual è la frase che tu vuoi dire a Siri per far sì che si abiliti il climatizzatore, quindi non fate altro che dove c'è scritto quando dico cliccate e decidete voi la frase standard. Io ad esempio metterò climatizzatore, una volta impostato il nome, gli date aggiunge a Siri, io non lo faccio perché l'ho già fatto, mi direbbe che ho già un dispositivo, una scorciatoia per Siri, ma fatto questo ogni volta che voi darete il comando a Siri questa andrà ad accendere il climatizzatore con le varie impostazioni che ci sono preimpostate nell'applicazione. Torniamo nel più, c'è la programmazione, tasto più ancora, e qui vi dà tutta una serie di parametri come dicevamo prima. Allora, c'è da fare una specifica. Per quanto riguarda i tasti, gli ultimi, le ultime voci di programmazione, eventi recenti e in post acclimate react, sono la stessa cosa del menu precedente che vi ho già spiegato. Non ve le faccio vedere perché è un copia e incolla di quello che ho detto prima, però c'è da fare un distingo. Nell'altra voce era un menu generale, se per caso avete un solo prodotto va bene, sia da lì che da qui, ma se per caso voi avete più dispositivi, questo purtroppo per adesso non è il mio caso, ma se avete più dispositivi, ogni dispositivo avrà la possibilità di avere tutta una serie di impostazioni per quanto riguarda la programmazione, gli eventi recenti e l'imposta il climate react. Quindi la differenza è semplicemente questo. Concluse con le spiegazioni, ci rivediamo in diretta per i saluti. Ecco, spiegate tutte le funzionalità di questa app. Come vedete è molto semplice e intuitiva, mi ci è voluto veramente pochissimo tempo per riuscire a capire un po' il funzionamento. È stato un po' più complesso capire quella benedetta funzione del climate react, che alla fine dei conti non fa nient'altro che automatizzare il vostro climatizzatore in base alla temperatura e l'umidità in casa. Mi chiede la testata, si è trovato molto bene, è già nell'arco di una settimana, funziona egregiamente. Altra cosa che secondo noi andrebbe un po' approfondita e magari più avanti, in base alle finanze, in base alle finanze, alle entrate, costa 71 euro, è il sensibo pod. Se qualcuno ha avuto esperienze già con il pod, ce lo faccia sapere qui sotto nei commenti. Anche perché Marco adesso anche lui prenderà il sensibo Sky, però appunto, visto che c'è anche il pod, eventualmente potrebbe essere... Si può valutare il pod anziché il sensibo Sky. Diciamo che il contro è che non avendo il filo dell'alimentazione, ogni 2-3 mesi devi cambiare le batterie, e questo utilizza delle batterie particolari. Allora, non ricordo esattamente il modello, ma sono delle batterie tipo le stilo malte così. Delle nano mini stilo. Delle nano stilo. No, nano mini stilo. Nano mini stilo, la ringoiatra. Esatto. Quindi c'è... Anitami. Detto questo, ragazzi, lasciate un bel mi piace, e mi raccomando, date un'occhiata, come vi dice l'amiche, ai prodotti qui sotto, che vi rimandano ad Amazon per l'acquisto. Per questo video è tutto, ragazzi. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao. Ciao.